A Fano, esattamente in zona trave, dietro all'attuale palestra Leonardi, proseguono i lavori della nuova struttura sportiva dal nome Palatrave e che accoglierà diverse discipline come volley, basket e calcio a 5. Siamo quasi all'arrivo, a dicembre penso che apriremo la struttura, è una struttura che sicuramente dà una risposta al mondo della pallavolo, nello specifico alla società Virtus perché saranno loro a fruirne, ma anche all'ambito scolastico perché la mattina ci verranno proprio gli alunni dell'Istituto del Nuti qua vicino. Per cui mi sento di dire che è un impegno che il Comune ha preso con una realizzazione di spese importante perché parliamo di 450 mila euro ma ne valsa la pena. La struttura principale è composta da sette arcate portanti in legno lamellare bianco di forma semicircolare che sostengono una copertura in tessuto in doppia membrana di ultima generazione con ottime caratteristiche di isolamento termico e traslucide per consentire così un ottimo passaggio alla luce solare. Questo è un primo stralcio di lavori che al momento come vedete prevede appunto la realizzazione della struttura ma c'è tutto un secondo stralcio che partirà in un secondo momento che è adiacente diciamo a questa dove verranno realizzati spogliatoi e anche bagni. Sino a quel momento per il momento verrà fatto un tunnel da collegamento dalla struttura invece alla vecchia palestra dove i ragazzi e gli atleti potranno accedere ai servizi all'interno dell'altra. Per cui la struttura verrà utilizzata solo per gli allenamenti ma non per manifestazioni di carattere nazionale e sportive. Inoltre l'abbiamo già adottata e quindi partiranno anche in maniera funzionale dei parcheggi esattamente 31 all'esterno illuminati di cui potranno fruirne anche proprio tutto il quartiere quindi mettiamo a disposizione del contesto e non solo della palestra. Nel suo punto più alto il palatrave raggiunge l'altezza di 10 metri mentre l'ingombro totale è di 28 per 30,5 e potrà contenere più di 200 persone con l'allestimento di una tribuna. Per la consegna definitiva dei lavori ad oggi chiaramente manca tutta la parte del riscaldamento perché come potete ben vedere la parte delle luci è terminata. Mi sento di fare un plauso alla struttura, ai tecnici e all'architetto che ci ha lavorato perché hanno fatto una struttura veramente moderna, all'avanguardia anche sia nella scelta dei colori ma anche del materiale.